Siamo a Facco, e BOOM! Siamo qui per fare le tre... Ma che cos'è questa cosa? È Minecraft questa cosa? Eh, probabilmente sì. Ah, è tutto cubettoso! Vabbè, comunque il piano è che io aiuto Facco su Minecraft e lui mi aiuta su Crash of Clans. E io non aiuto in cazzo, nessuno vince una partita e basta. Oh, oh, nel me... No, te la foto taglia. Aiuto, aiuto, mi attaccano. Vai Alex. Io vado per la mia strada. Aiuto. Ti toccano. Che sei fatto? Sono di tu di te, però c'è un altro dietro di te, quindi stai attento. Allora, stai attento. Allora, no, no, bottala! Ho un cuore, 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 un cuore. Io ho una canna da pesca. Aiuto, 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 mi sto ricorrendo. Perché tu sei così inutile? Sì. Ok, ok, ok. Ok, ok, mi sto... Ah, mi sta uccidendo a me. No, facco, facco, facco. Vai, corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Appena riconquisto un po' di vita, riconquisto un po' di vita. Ce l'abbiamo dietro? Sì, stiamo dietro. Io c'ho una canna. Saltella. Eh, saltella, ok, però non è il mio mestiere, però. Aia, mi ha preso! Cazzo. Cera ti! Ma mi ha ucciso, mi ha ucciso con un colpo, mi ha ucciso. Saltella, corri, ah, ma, cioè, non so, fargli anche fare la gira una volta, fargli battere le mani. Vuole fare team con me, quella? No, bastardi, mi hanno inculato! Quindi... Oh, apposta, a parte il fatto che sparavi i laser magnetici dalle accelle. Sì, sì, sono sovravello. Ma che cazzo... In che senso? Radio Albi. Ok, eccoci tornati qui con la seconda partita, che la prima ormai era altamente sdrogheggiante. Albi intanto saltella sulle pressure plate e la Unleaks è lì vicino, ok? Tutti che saltellano, ok. Ma che ha detto schia... 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 schiappo? Cos'è che ha detto prima, Albi? Schiappetti. Invece, ecco, schiappetto invece di camminare. Albi, allora tu hai il chest, Ruth, o cosa? Io ho sempre un chest. Io ho il root e basta. Madonna. Il root inteso il root o il root... No, il root inteso il... Io sto seguendo Alix, che lei è la pro di Minecraft, però... Non mi sembra, però vabbè. Aspetta, ci vuole impegno. Sai che stai facendo qui? Ma sai fare un cazzo di parkour? Cioè, lo so fare io che non sono di Minecraft, cioè... Metti in eccitazione. Aia! Scusa! Mi stai molestando! Pensavo fossimo amici. Ciao tipo, ciao tipo. C'è un tipo. Vai, inculiamolo. Vai, vai. Vai, vai. Incappetto, incappetto. Via! Papere! Devi morire! E vai. Minchia, oh, guarda quanto cibo aveva! Vieni qua, vieni qua. Ok. C'è un tipo. C'aveva 38 carote! No, ci sono tre. Guarda, stanno facendo festa qui dentro. Un'orgia! Vieni, 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 vieni. Vai, vai, arrivo. Arriva Alix, che all'arma. Ciao, 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 ciao. Minchia, ma sei un trattore, che cazzo sai? Spingimi. Spingimi tutta, toccami. Scusami. No, ok. Ehi, ehi, ehi. Ok, scusami, scusami. Siamo tutti amici. Volete del cibo? Separali, separali. Scusami. Eccoci ragazzi, siamo qui soltanto con Alix, non più con il nostro caro Albi. Ma lui, oh cazzo, sto per salt, però. Quindi abbiamo una spada di Dios. Lui rimarrà sempre con noi, nei nostri cuori. Sì, nei nostri amati cuori. Ormai, ecco perché mi bippa le cose. Un creeper, no! Cazzo di Buddha. Ok, una cesta. Ma come, cioè, fa dei versi stranissimi. Sì, perché ti ha fatto scaricare un quadro dei versi. Io non ho un arco, quindi non posso usare le mie frecce. Quando, quando lancio una frecce mi fa, we are. Ma mi ha mutato di sotto. No. Ma che leggi di nera. Ma non puoi fare così. Vediamo Alix. Quando mi colpiscono sento dis... Eh sì. Guarda Alix come, come sa alzare. Attento che ne hai uno. Sì, no. Guarda là. Guarda là. Ma cosa sta succedendo? Che cos'è sta cosa? Tu si fa giocare così? Guarda, guarda. Ma dove sei finita? Sei morta? No, no. Sì. Eccoci qui con la seconda partita di oggi. Ormai ci stanno arrando brutalmente. Ho trovato due archi. No, perché mi hanno buttato di sotto ancora? Ancora, mamma mia Puoi prendere certe paure, certi spaventi? Io non riesco ancora a capire come mai Ok, adesso mi faccio la base come dici tu Perché io mi sono abbastanza rotto le bols Tu non hai idea di quello che ho trovato No, adesso faccio io il culo Oh, Cristo se faccio il culo Oh mio Dio, no, 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 no Adesso, 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 adesso Adesso si ragiona Oh, 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 c'ho l'arco C'ho l'arco Uscanta la madonna Ok Ho visto tanto brutta Troppo brutta Non meritavo questo Ok, power, power, non power No Come stai messo? Curo di merda, ma Sei morto? No Oddio Mi ha buttato al centro uno, ok, perfetto Tu sei al centro? No, sono andato al centro E se non volevo attaccare, mi faceva tanto male No Oddio Ma si, si accade a Dio PAM E se ne va Ah, questa è stata che non l'ho fatta divertente No, me l'ho messo la lavata No, dai l'acqua calda, però Io risposto Non così calda Esatto Cioè, l'acqua calda, va bene la sera di giorno, no Cioè, che ho visto Non muore! C'è la madonna Non riesco a prenderlo Preso No, ma perché? È morto Ok ragazzi Purtroppo oggi abbiamo capito che io e Anlix non siamo bravi e buoni a fare Minecraft A qualsiasi altra modalità Quindi spero se il video vi sia piaciuto Lasciate un like e passate dal canale che troverete in descrizione di Anlix E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video Saluta Ciao Ciao Che saluto Ciao Ciao È il salutone mio Ecco Tutti lo sanno, tutti lo riconoscono Ci becchiamo in un prossimo video Beh ragazzi Ciao 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 Ciao